Il Tribunale Civile dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dal Movimento 5 Stelle che è all'opposizione in consiglio regionale con il quale si chiedeva l'incompatibilità del governatore Luciano D'Alfonso, eletto senatore del Partito Democratico lo scorso 4 marzo con la carica di presidente dell'Aggiunta Abruzzese. Il Tribunale, secondo quanto sia preso, ha condannato alle spese legali pentastellati. I giudici si erano riservati alla decisione dopo l'udienza che si è svolta ieri. Nella sentenza hanno accolto la tesi difensiva secondo la quale la scelta tra le due cariche elettive dovrà essere effettuata dopo la convalida da parte dell'Aggiunta per le elezioni del Senato delle elezioni a senatore. Tre paesi dell'Abruzzo interno uniti per il rilancio e per combattere lo spopolamento coinvolgendo gli emigrati. L'intesa siglata tra i comuni di Acciano, Castelvecchio Calvisio e San Benedetto Imperillis mira a partecipare ad un progetto che prevede una raccolta fondi per realizzare un documentario curato da Oliver Kier, documentarista tedesco. L'autore, che a settembre sarà in Abruzzo per le riprese, lavorerà con Martin Blake, esperto di Blue Economy e insieme all'associazione Borghi in Comune, che ha ispirato il progetto. Il video spiega il sindaco di Acciano e consigliere provinciale Fabio Camilli punta sul coinvolgimento emotivo delle persone, soprattutto quelle che hanno dovuto lasciare il loro paese per spingerle a dare il loro meglio alla terra d'origine. Insieme al primo cittadino di Acciano, anche i sindaci Luigi Antonacci e Gianfranco Sirolli alla guida di Castelvecchio Calvisio e San Benedetto Imperillis. L'assessore regionale al turismo, Giorgio D'Ignazio, ha condensato questa mattina la mission che il suo assessorato e la regione Abruzzo intendono portare avanti in materia di turismo al termine di una visita che ha effettuato sulle emergenze ambientali e turistiche del territorio vestido. Nello specifico D'Ignazio si è recato in visita a San Demetrio e alle grotte di Stiffe. L'assessore è stato accolto dal sindaco di San Demetrio, Silvano Cappelli, con il quale ha discusso quelli che saranno gli elementi di crescita, oggetto di un protocollo che sarà sottoscritto tra la regione Abruzzo e il comune Vestino, avente per oggetto la valorizzazione ai fini turistici delle emergenze naturalistiche ambientali di San Demetrio, auspicando che tutti i comuni d'Abruzzo seguano la stessa linea. Dai laghi al mare, passando per le montagne e i centri d'arte, praticando le attività sportive più emozionanti come calarsi in canoa lungo un torrente impetuoso o più rilassanti come il golf o una semplice passeggiata in collina. Questo il disegno tracciato dall'assessore D'Ignazio sulla parte d'Abruzzo visitata oggi. L'Abruzzo si presta a tutto, dal turismo enogastronomico al turismo religioso, abbiamo la bellezza delle nostre cattedrali, delle nostre chiese, dei nostri eremi, dei nostri castelli, delle nostre fortezze. Quindi l'invito è proprio questo, di fare sistema, farlo insieme alle amministrazioni comunali. Io invito le amministrazioni comunali tutte a non soffrire un po' di campanilismo, che è un po' il problema in realtà che si è riscontrato in qualche territorio. Del resto l'Abruzzo è bello tutto. Se un turista oggi viene qui a San Demetrio, molto probabilmente l'anno prossimo andrà sulla costa, ma comunque resterà in Abruzzo e viceversa chi sulla costa viene in vacanza magari verrà a San Demetrio. Ed è importante che il turista resti nella nostra regione, che porti ancora tanti altri amici, parenti, fare anche questo discorso. La regione ce la sta mettendo tutta, sia una campagna nazionale che internazionale, perché stiamo aggredendo anche mercati internazionali importanti. Credo che questa sia la sfida da vincere nell'immediato per la prossima stagione. È morto questa mattina Lorenzo Filomusi Guelfi, proprietario dell'omonima cantina di Tocco da Casauria e patron dei vini casaurienzi. Conosciuto per i suoi prodotti in Italia e nel mondo, Filomusi Guelfi si è spento ad 80 anni nella sua abitazione di Pescara. Nato nel 1938 a Roma e discendente di una famiglia di nobili, Lorenzo Filomusi Guelfi prese in mano le redini dell'azienda di famiglia, attiva fin dal 1700 nel 1982, selezionando ed affinando la produzione vinicola e proponendola al mercato della ristorazione e delle enoteche. L'azienda che si estende su 17 ettari in contrada a Cippo si trova in un antico edificio del 1600, vincolato dal Ministero dei beni culturali, adeguato dal punto di vista strutturale e tecnologico. Nel corso degli anni la cantina è cresciuta e ha iniziato a distribuire i suoi prodotti fuori regione e all'estero. Si è svolto ieri nella sede provinciale di Confcommercio L'Aquila un incontro di saluti e di conoscenza tra il neocomandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Nazareno Sant'Antonio e i vertici dell'associazione di categoria rappresentati dal presidente e dal direttore Roberto Donatelli e Celso Cioni. Al centro del positivo e costruttivo confronto si legge in una nota i temi della sicurezza, della legalità e del deciso contrasto all'abusivismo e alla contraffazione nonché alla necessità di una collaborazione sistematica utile a rafforzare in ogni modo tutte le azioni da mettere in campo a difesa dei cittadini e delle imprese e della loro sicurezza così come l'attivazione della videosorveglianza in città e del rafforzamento dei pattugliamenti notturni nell'intero territorio. Al neocomandante al quale il presidente Donatelli ha voluto donare una pubblicazione edita da Abruzzo Confcommercio sulle bellezze della nostra regione sono stati formulati, conclude la nota, a nome delle migliaia di imprese del terziario della provincia dell'Aquila gli auguri di ogni successo per il suo nuovo incarico. Il fascino del dressage il 31 luglio e il primo agosto in Piazza Maggiore a Sulmona L'assoluta novità per il capologo Peligno e per la giostra cavalleresca è stata presentata questa mattina in conferenza stampa ne parleremo tra poco nella rubrica Il Punto.